Mariano Vassallo, 60 anni di Pollica, e Carmine Gorrasio, 91 anni, originario di Gioe Cilento, ma residenti ad Agropoli, sarebbero i due principali autori dell'organizzazione criminale accusata da sabato scorso di immigrazione clandestina e sfruttamento di giovani donne moldave ma anche rumene. Entrambi, insieme alla compagna di Vassallo, una 51enne moldava, avevano generato uno stratagemma che gli consentiva di far arrivare le donne dai paesi dell'est in Italia, evitando i controlli, ed è per questo che per loro sono scattate misure più restrittive. Mariano Vassallo e la compagna sono in carcere il 91enne ai domiciliari. Gli altri sei indagati sono soggetti all'obbligo di dimora, un provvedimento che è stato emesso per Manuela Enea, 48 anni, nati in Romania e residenti a Cisterna di Latina, Crescenzo Mastalia, 72 anni, di Laureana Cilento, Francesco Provenzale, 71 anni, di Altomonte, in provincia di Cosenza, Carmine Minarchi, 78 anni, di Agropoli, Alessandro Stasi, 88enne, di Albanella e il 25enne Michael Vassallo, residente a Pomezia, l'unico giovane del presunto gruppo criminale. Il loro compito era quello, una volta che le straniere avevano raggiunto l'Italia, di accompagnarle presso le abitazioni di Celso, piccola frazione di Pollica, che l'organizzazione utilizzava proprio per la loro accoglienza, dopodiché dovevano provvedere a condurle dai datori di lavoro. Venivano impiegate prevalentemente come badanti, ma anche in aziende agricole o in attività commerciali. Ciascuna però, una volta giunta nel Cilento, doveva versare all'organizzazione 200 euro, ma anche di più. L'inchiesta è partita nel 2018 dopo la denuncia di una delle ragazze sfruttate, stanca di sopportare le condizioni disumane, in cui era costretta a vivere e lavorare. Ora c'è il rischio che decine e decine di cilentani finiscano sotto inchiesta per aver sfruttato mano d'opera clandestina e soprattutto per aver retribuito le immigrate con stipendi davvero poveri rispetto al lavoro che erano costretti a svolgere.